Dunque, io, fratelli, spero solo che i russi non si sognino mai di invadere anche l'Italia. Dunque, io vengo da Genova, credo che voi lo sappiate, no? Che sono genovesi, lo sapete? Ok. L'altro giorno in macchina pensavo, ma metti che Putin un giorno, come ha fatto a Mariupol, no? desse tre ore di tempo per evacuare Genova con un corridoio umanitario. Ora, noi di Genova, con l'autostrada, in tre ore, dove andiamo? Cioè, non arriviamo nemmeno al primo casello, eh ragazzi, cioè, autostrada e Calvario tra Savona e Genova con cose di 12 chilometri ormai dobbiamo portare le scorte di vivere. Ieri erano 12, l'altro ieri di chilometri erano 20, fammi vedere. 20 chilometri, cosa, tra Spottorno e Renzano. Il giorno prima 16, 16 chilometri, fammi vedere. Ecco, ok, cantieri, code sul nodo Ligure, fino a 16 chilometri. Se va avanti così da quanto? Da mesi, da anni. Ormai chi entra sulla 10 perde ogni speranza di abbracciare i suoi cari. Questa notizia è del 2 dicembre scorso. C'è autostrada, esasperato dalla coda, fa l'albero di Natale. Ha fatto l'albero di Natale in A10. Ovviamente poi Babbo Natale non è mai arrivato perché era entrato con la slitta a Vado Ligure. Ma le renne, poco prima di Savona, le avevano già mandato a fanculo. Per cui, ora non ci resta che sperare nella Pasqua, non so. Autostrade, tregua, cantieri per Pasqua, ma i lavori finiranno soltanto nel 2028. Hanno concesso una tregua. È proprio come se fosse il Donbassi. Vi rendete conto? Oh, magari c'è stato un accordo tra Putin e Biden sull'uscita di Varazze. Perché potrebbe essere. Voi ridete, io stasera devo andare a cena. Comunque, i lavori sulla 10 dureranno fino al 2028. Siamo nel 2022, mancano solo sei anni. Facciamo ancora in tempo a vincere i mondiali di calcio. Non questi... Quelli... Ma non quelli... Quelli... La verità è che i naspi si sono svegliati solo dopo il crollo del Morandi. Per 30 anni nessuno ha fatto manutenzione. Nessuno, scusate. Se i lavori li finite nel 2028, però, perché il pedaggio ve lo devo pagare adesso? Facciamo che ve lo pagano nel 2028, quando arrivo. I dirigenti di autostrade dovrebbero passare il loro tempo a chiedere scusa. Se fossero giapponesi, li avrebbero già fatto trovare una katana sulla scrivania. Con scritto un biglietto, non sporcate il pavimento. Ma noi liguri siamo abituati alle code, mugugniamo in silenzio. Il casino vero scoppia quando in trappola ci rimangono anche gli stranieri. Causa autostrade in Liguria, fra l'avviatore in coda sulla 10 è uno scandalo. È rimasto in coda anche lui, si annoiava e ha fatto un video di fuoco contro i dirigenti e la società di autostrade. Guardiamocelo, è importante. Guardiamocelo.